Sembrava scontato, sembrava una cosa di quello Juventus aveva bisogno, perché effettivamente è quello che è, ma l'affare, scambio, Vlaovic, Lukaku, più un conguaglio di circa 40 milioni di euro, potrebbe clamorosamente saltare. Sembrerebbe, infatti, che il serbo tramite i social avrebbe mandato un indizio sulla sua voler di rimanere alla Juventus. Vuole rimanere, vuole rimanere, è tutto quello che diranno tutti. Dipende. Per Lukaku, cioè, se dico Vlaovic, se ti prendi Davide, dico, ok, Vlaovic glielo porto in braccio al Chelsea. Se mi dicono, Vlaovic per Lukaku più 40 milioni, sinceramente preferisco ancora Vlaovic. Quindi rimane, forse, forse, perché poi con i soldi si compra chiunque. Anche i più legati ad una squadra, a parte, vabbè, le bandiere, quelle più vere, 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 con i soldi si può prendere chiunque. E poi la Juventus può anche dirgli, senti Dujan, abbiamo bisogno di cash, vattene, vattene al Chelsea, anche se non penso che gli diranno così. Spero di no, eh, se no siamo veramente messi male. Comunque, ragazzi, devo dire, sono abbastanza contento per... cioè, dipende. Dipende, perché Vlaovic se ne potrebbe andare, io sono totalmente d'accordo, però per Lukaku, sinceramente, lo scambio non si può. Cioè, preferisco tenermi Vlaovic, quindi apparentemente sono contento. Vedremo cosa arriverà nelle prossime ore di mercato. Come, pochissimo tempo fa, nel video uscito poco fa di Casey Tottenham, se siete persi, andatevelo vedere, avevo giusto detto delle incertezze che ci sono sul futuro del calcio mercato, della Juventus in generale, dello scambio di Vlaovic-Lukaku, ne avevo anche già parlato stamattina, se non mi sbaglio. Comunque, ragazzi, il video finisce qui, secondo video di serata, anche questo non l'ho editato. Vi ricordo, ovviamente, di lasciare like e iscrivervi al canale, non ve l'ho detto nella intro, ma penso che sia abbastanza scontato. Qui, da Luccachetti di YouTube è tutto, noi ci becchiamo nel prossimo contenuto. Bella, ragazzi, buonasera, buonanotte. Ciao! Ciao!